Tre giovani artisti contemporanei e emergenti in una mostra a sottofondo studio ad Arezzo. L'arte e la rappresentazione delle cose perdute, questo è il titolo dell'evento. Il titolo si rifà a una ricerca iniziata qualche mese fa in dialogo con gli artisti che sono Perla Sardella, Nicola Ghirardelli e Lorenzo Montinaro, rispetto alla definizione dell'artista e della riflessione sul proprio rapporto con l'idea di perdita, con il tempo. Il titolo principale è E ci fa dispetto il tempo, che rende quest'idea di rapporto anche ambiguo con lo stesso. In questa mostra sono tutte riflessioni, seppure molto diverse a livello dei materiali, ma anche di ricerca a pregressa, che però portano degli elementi che sono una soglia, che rispecchiano una soglia temporale, che guarda al passato, non in modo nostalgico, ma come riflessione sui propri radici, ma apre anche a un'interpretazione futura degli stessi. Ma è anche una riflessione sul presente? Assolutamente, in questa mostra si ha una sorta di, ripeto, sospensione, quindi un momento che riguarda oggi, riguarda il presente, che diventa stimolo a riguardare al passato. Fino a quando rimarrà aperta? Rimarrà aperta fino al 17 luglio, su prenotazione basta scrivere alla nostra mail oppure sui nostri social di sottofondo studio.